Ci sono vite e situazioni che sembrano essere ad un binario morto, un po' come questa stazione in disuso qua ad Urbino. In realtà siamo in un ristorante che si chiama proprio la Locanda della Stazione, qui nella città Culla del Rinascimento e qui parte anche una bellissima storia di rinascita grazie alla mano dell'Europa e allora andiamo a conoscere Abdo. Conosciamo allora Abdo a 20 anni ma è arrivato qua in Italia dopo un viaggio lungo e pericoloso quando aveva solo 14 anni insieme al fratello praticamente coetaneo, un anno in più. Egitto, poi la traversata del Mediterraneo, Lampedusa e alla fine qua ad Urbino. Quindi due ragazzini in fuga per cercare un futuro qua in Italia, un viaggio complicato immagino. Sì, è stato un viaggio un po' difficile e pericoloso soprattutto, però dai eccoci qua ad Urbino. Siete arrivati insomma tu e tuo fratello con il barcone. Sì, mio fratello che è un anno più grande di me che adesso sta a Roma e siamo arrivati insieme a 14 anni. Quindi eravate davvero piccoli e poi siete stati seguiti attraverso i servizi sociali. Prima insomma vi siete ambientati qua in Italia e poi siete stati aiutati a capire un po' quali erano le vostre aspirazioni e quindi per la scuola da scelgere e poi magari anche una professione da avviare. Allora per noi è stato un po' difficile all'inizio perché andare in un paese, non conoscere nessuno, né la lingua né niente, rimane un po' difficile per un po' di tempo. Siamo stati in un po' di comunità e ci siamo trovati bene, però pensando sempre al futuro, cercando sempre di trovarci del meglio, siamo arrivati qua ad Urbino e siamo rimasti ad Urbino perché è una città molto bella e ci siamo trovati molto bene. Poi io ho iniziato la scuola qua ad Urbino a Trasanni, agroalimentare al Pellicano, per tre anni. E tramite loro mi hanno trovato questo lavoro qua che sto facendo adesso, faccio il pizzaiolo e mi trovo benissimo. Quindi praticamente attraverso appunto il Fondo Sociale Europeo che sostiene appunto i ragazzi aiutandoli anche evitando la dispersione scolastica, sostenendo anche situazioni di fragilità, i giovani, le ragazze e i ragazzi vengono istradati ad un percorso formativo ma anche professionale come nel caso di Abdo e quindi alla professione insomma di pizzaiolo. Siamo qui in questo ristorante particolare di Urbino e qui tu hai fatto il tuo tirocinio. Sì, prima ho iniziato con aiuto cuoco e ho fatto il tirocinio per un po' di tempo, mi sono trovato benissimo, poi avevo anche difficoltà per la lingua, non riuscivo a parlare molto bene, capire sì, ma parlare non riuscivo a parlare quasi per niente, cercando sempre di imparare per il mio futuro. A me piace tanto lavorare in cucina, quindi mi piaceva un sacco fare l'aiuto cuoco. L'ho fatto per due anni e adesso faccio il pizzaiolo. E questa passione per la pizza com'è nata? E' nata così, cioè a me all'inizio non mi piaceva fare le pizze perché mi vergognavo un po', stare davanti alla gente, mi vergognavo un po' e preferivo... Perché qui è a vetro, quindi le persone quando tu fai la pizza ti vedono? Sì, poi non ero così bravo a fare le pizze, quindi mi vergognavo, preferivo fare aiuto cuoco che imparare più cose, più altro. Però da quando ho fatto le pizze mi sono trovato benissimo e da lì faccio sempre le pizze e l'obiettivo di andare sempre avanti con le pizze perché mi piace un sacco farle adesso. Sei diventato bravissimo. Insomma, lo dicono. E hai avuto un contratto a tempo indeterminato, proprio come pizzaiolo in questo ristorante dove hai iniziato la tua avventura professionale, quindi dal tirocinio con la scuola. Sì, e grazie anche alla scuola perché loro che mi hanno trovato il lavoro, passando tutta la mia storia e tutto il passato, arrivando a questo momento qua con un contratto indeterminato, fare il pizzaiolo, conosciuto a Urbino per la pizza che faccio, è un giovane così che guadagna bene, comunque a me fa piacere sta cosa. Tutto il sostegno che c'è stato è stato importante, quindi ricordiamo appunto anche la mano dell'Europa con il Fondo Sociale Europeo che sostiene proprio queste realtà. Beh, è così, dovreste dare un po' all'inizio, ma dare anche tanto per arrivare a ciò che vuoi, dovreste anche soffrire per un po', questo voglio dire. e non è facile arrivare a un livello così comunque, però dai adesso mi trovo bene, ci sto benissimo. E adesso cosa sogni per il futuro? Per il futuro io vorrei aprire un po' di ristoranti, qualcosa per conto mio, nel mio paese, che è in Egitto, portando tutto ciò che ho imparato qua nel mio paese. Magari un po' di cucina italiana? Sì, anche, poi non si sa mai nel futuro, potrei anche aprire qualcosa qua per conto mio. Siamo con Gabriele Di Gregorio, il titolare di questo ristorante, insomma com'è nata questa storia affortunata con Abdo? Un po' per caso è nata, perché noi avevamo appena aperto e Luca della scuola mi ha chiamato e mi ha detto guarda un ragazzo vuoi provarlo perché è bravo. Io sinceramente lì per lì ho un po' titubato perché sai appena aperti, un po' in difficoltà con i primi giorni di lavoro e ho detto dai vabbè proviamolo, mi sono ritrovato sto ragazzino che ancora veramente era proprio un bambino perché a 17 anni quando è arrivato qua sembrava veramente un bambino e un po' intimorito, impaurito un po' della situazione, un po' del luogo, non parlava neanche bene l'italiano e si è ritrovato lì in cucina con sto camice, con la paura anche di maneggiare i coltelli perché chiaramente sai la preparazione della scuola è diversa dalla preparazione che c'è dentro una cucina e quindi piano piano ha cominciato e poi niente, per caso si è ritrovato in pizzeria e lì ha trovato la sua vina tra virgolette artistica e il suo, penso anche la sua dote principale che è quella di fare la pizza. È proprio un talento quindi È proprio bravo, diciamo che è nato insieme a noi, quindi piano piano è cresciuto ed è diventato quello che oggi è comunque uno dei più bravi pizzaioli che c'è qui in zona Questa è una bellissima storia comunque di riscatto personale e non solo Avere fatto crescere un ragazzo qui a me da tanti stimoli e mi fa piacere ma ha maggior ragione non per la bravura lavorativa ma proprio per la bravura della persona in sé, proprio che è Abdo è capito, quindi una persona molto umile che è comunque molto rispettosa, che ha saputo fare i passi nei tempi giusti, non ha mai strafatto quindi è stato un percorso proprio lineare dalla gavetta fino a diventare comunque un bravissimo pezzaiolo Cioè considera che lui è entrato qua e faceva lavapiatti, ecco, per non mettergli i coltelli nelle mani perché aveva paura comunque che si tagliasse e poi piano piano è entrato in pizzeria Come valuta anche questo percorso formativo e poi professionale che viene finanziato dal Fondo Sociale Europeo? Il percorso penso che sia comunque ottimo, però come tutte le cose la cosa più importante è quello che ci mette il ragazzo è la volontà del ragazzo di voler imparare a fare un lavoro e quindi se c'è la volontà, prima della capacità, perché comunque ci deve essere una volontà per poter imparare un lavoro penso che comunque a prescindere ogni scuola dal suo apporto questa ha maggior ragione perché comunque li mette in un settore che in questo momento qui sta trovando veramente tanta difficoltà a trovare personale Siamo con Anna Rita Bonaventura, formatrice, quella di Abdo è una storia bellissima e di successo e fondamentale, insomma, tappa di questo percorso è stata appunto la sua formazione con i corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo Sì, certo. I percorsi di istruzione e formazione professionale sono rivolti a ragazzi che hanno compiuto 14 anni di età e permette a questi ragazzi di conseguire una qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Marche Attraverso questi percorsi i ragazzi possono assolvere l'obbligo formativo La particolarità di questi percorsi è che permettono di poter stabilire un contatto lavorativo tra la scuola e l'azienda Attraverso dei contratti di apprendistato, cioè si parte inizialmente con un tirocinio formativo e si può trasformare in un contratto di apprendistato Infatti quasi tutti i ragazzi quando escono da questi percorsi scolastici hanno già un percorso lavorativo pronto che li aspetta Quindi ci sono storie che vanno a buon fine per la maggior parte? Assolutamente sì Siamo a Senigallia al Raffaello Hotel Allora incontriamo Sofia Castriota, 24 anni, giovanissima Il suo percorso qui è iniziato con un corso di formazione appunto quelli della Regione Marche finanziati dal Fondo Sociale Europeo Hospitality Management Questo effettivamente era il corso che lei ha frequentato negli anni 2017 In quel momento di vita insomma che cosa stava facendo? Allora in verità mi è capitato questo corso diciamo un pochino per caso Quindi ho approfittato perché era proprio il percorso che volevo seguire Lavorativo che volevo seguire e quindi mi sono buttata con questo corso Questo biennio esatto Quindi 2017-2019 in quel momento ovviamente era giovanissima perché insomma 18 anni se non sbaglio Sì 18 anni esatto 18 anni e non stava lavorando stava un po' decidendo cosa fare nella vita Mi è capitato questo corso e quindi ho scelto di provare questa nuova esperienza e sono rimasta soddisfatta da questo corso appunto Quindi un corso di due anni ovviamente gratuito perché è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e la possibilità poi di effettuare dei tirocini come è successo a lei Sì ho fatto questo tirocino qua nel Raffaello Hotel nel 2018 appunto dove poi sono stata assunta quindi ho fatto anche il secondo tirocino poi sempre qua e ho continuato il percorso lavorativo qua in hotel E adesso ha un contratto a tempo indeterminato? Sì da pochissimo sì sono stata assunta indeterminato e niente qua mi trovo bene quindi non mi posso lamentare Come è stato il corso? Perché è stato utile secondo lei? Sì secondo me sì è stato molto utile anche perché vengono trattate diverse materie magari alcune più interessanti per qualcuno poi dipende un pochino che pure il percorso si vuole seguire Anche magari si parla di agenzie di viaggio, di organizzazione eventi, ci sono molte materie che vengono trattate quindi secondo me è molto utile anche come corso Sia per la parte ricevimento proprio dell'hotel ci sono proprio materie specifiche su quello ma viene trattato anche proprio tutto il contorno quindi anche magari la parte food and beverage di un hotel che magari a qualcuno può non interessare Però viene trattato proprio tutto sul 100% del mondo del turismo, economia aziendale, diritto ecco quindi molto, vengono trattati molti spazi ecco proprio del turismo Quindi per certi versi è un po' impegnativo ma molto utile Sì però sì molto utile anche perché soprattutto vengono anche fatte delle uscite fuori porta per andare a vedere fiere del turismo come a Rimini, a Londra ecco quindi molto, molto interessante sì Lo consiglierebbe quindi? Sì sì sì, già consigliato anche molte volte secondo me sì, molto valido come corso Quindi altri coetanei, altri amici che magari sono alla ricerca di un lavoro o perlomeno di un percorso Esatto, sì comunque a parte il fatto che lascia comunque un diploma di secondo grado che è anche utile a titolo lavorativo Poi per chi è appassionato del mondo del turismo secondo me sì è un corso che va fatto anche poi sapendo che è gratuito ecco è un bel percorso da fare sì Lei adesso sta in reception, questo è proprio il suo lavoro e quindi il contatto diretto sempre con le persone Più in generale insomma qual è l'aspetto che le piace di più e un po' insomma come è organizzata la sua giornata lavorativa Allora il contatto con le persone sì è fondamentale se si lavora in pubblico ecco bisogna essere un pochino portati anche al contatto col cliente A 24 anni avere un contratto a tempo indeterminato in una realtà bella e importante come questa qui di Senigallia Guardandoci intorno insomma ci sono tanti ragazzi invece che non hanno un'occupazione e forse non hanno neanche una prospettiva di un percorso da attuare Sì no infatti sono molto fiera di dove sono arrivata ecco spero di restare nel mondo del turismo e ecco di spaziare in questo lavoro qua che mi piace comunque un bel settore diciamo E tutto è partito proprio da quel corso esatto finanziato dal Fondo Sociale Europeo Un pochino perché mi è capitato un pochino dal nulla diciamo il corso però sono soddisfatta sono contenta di aver preso questo percorso e spero di rimanere in questo in questo ambito diciamo Nell'ambito del turismo grazie in bocca al lupo ancora per tutto il percorso grazie mille Abbiamo visto nel corso di queste puntate quanto sia importante la mano dell'Europa quando si parla di tirocini di inclusione sociale, di formazione professionale, di borse di ricerca Di strumenti che possono stimolare l'autoimprenditorialità soprattutto quella giovanile E allora parliamo dell'importanza proprio dei contributi del Fondo Sociale Europeo con Mauro Terzoni Direttore Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Marche Quanto incide in questo caso la mano dell'Europa nella vita viva delle persone? Sicuramente in queste politiche del lavoro, della formazione, delle politiche sociali La gran parte dei finanziamenti che abbiamo a disposizione per realizzare gli interventi a favore delle persone, delle imprese e dei territori Provengono dall'Unione Europea, dal Fondo Sociale Europeo in particolare Diciamo che sono interventi importanti soprattutto in periodi difficili Perché aiutano, sostengono le persone e le imprese nel cercare di comunque migliorare la propria posizione Nonostante le difficoltà contingenti Siamo in un momento storico particolare, a tratti quasi indecifrabile Comunque c'è una crisi, un contesto internazionale che forse proprio nei prossimi mesi vedremo esplicitarsi nella sua drammaticità Anche dal punto di vista della tenuta sociale Quindi parliamo dell'occupazione, della vita delle persone Come gli strumenti del Fondo Sociale Europeo possono intervenire anche in questo senso? Noi nelle puntate precedenti abbiamo visto tutta una serie di interventi di sviluppo Quindi sia il discorso dell'autoimprenditorialità, la creazione di impresa, la formazione E questi rimarranno e saranno fondamentali, importanti anche Però a fianco a questi abbiamo anche attivato, stiamo attivando in queste settimane Proprio degli strumenti sempre di politica attiva ma a sostegno delle situazioni critiche Cito ad esempio il fondo ASSIST Che è un fondo studiato e costituito per le imprese che si trovano in crisi aziendali Certificate da tavoli sindacali di crisi Che avranno a disposizione uno strumento molto snello per fare politiche attive del lavoro E di ricollocazione o di riqualificazione dei lavoratori Quindi anche attraverso la formazione continua Per tutti i lavoratori di quell'azienda in crisi E quindi nessuno sarà lasciato da solo Sia quelli che rimarranno nell'azienda magari dovendo riqualificare il proprio profilo professionale In base anche alle esigenze del mercato che cambia Ma anche quelli che magari perderanno il lavoro Ma verranno subito presi in carico per cercare di ricollocarli il più velocemente possibile Questo è un esempio Formazione continua Quindi avremo molte risorse anche sulla formazione continua Perché soprattutto in periodi come questo È fondamentale la flessibilità sia delle aziende nel riqualificare I propri orizzonti di produttivi, di investimento, di strategie Sia soprattutto i lavoratori ai quali ha richiesto magari un rapido aggiornamento professionale Per poter far fronte ai mutamenti strutturali del mercato del lavoro Va anche in questa direzione la nuova programmazione europea Per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo nelle Marche? Sì, la nuova programmazione europea Diciamo già un elemento positivo Che deriva da elementi se vogliamo critici degli ultimi anni Nel senso che la Regione ha visto aumentare le risorse a disposizione Nei fondi strutturali In particolare anche nel Fondo Sociale Europeo Questo ci consentirà di affrontare le sfide molto importanti Che ci attendono nei prossimi mesi, nei prossimi anni Con una tranquillità se vogliamo dal punto di vista finanziario Quindi non avremo problemi di dover dire No, questo intervento non lo posso fare perché do la priorità ad un altro Perché non ho risorse per farlo I soldi non bastano mai Ma tutto sommato abbiamo una buona dotazione finanziaria Questo significa essenzialmente che dobbiamo spenderli bene E quindi indirizzarli verso quelle politiche Che sulla base dell'analisi che stiamo facendo Riterremo che saranno quelle più importanti Per raggiungere gli obiettivi del Fondo Sociale Europeo Che sono quelli appunto dello sviluppo delle competenze delle persone Dell'occupabilità, anzi dell'occupazione delle persone E spenderle anche velocemente Quindi anche per questo stiamo attivando una serie di meccanismi Che consentano di arrivare in tempo utile All'erogazione delle risorse rispetto a quando si determinano i fabbisogni Perché l'efficacia si determina anche dalla velocità In questo caso con cui un intervento formativo Che oggi chiede un'azienda Non lo possiamo erogare dopo 8 mesi Perché altrimenti Perché fra 8 mesi probabilmente Soprattutto di questi tempi Le esigenze magari sono cambiate Verranno confermate le misure che abbiamo visto Protagoniste in queste puntate Quindi parliamo dei tirocini di inclusione sociale Rafforzamento degli ambiti sociali e territoriali La formazione professionale, le borse di ricerca Sì, venendo anche all'esame Raffronto con le risorse Per esempio c'è un incremento forte delle risorse Nel campo del sociale E questo è fondamentale Proprio in questo periodo Le crisi, ma non solo le crisi Diciamo occupazionali Ma anche la crisi, se vogliamo Quella dell'energia, eccetera Che crea anche delle problematiche Di natura di sostentamento delle persone Quindi incrementare le risorse Nell'ambito delle politiche sociali Quindi con i tirocini O il supporto agli ambiti Che poi a loro volta fanno politiche Verso le categorie più fragili È fondamentale questo aspetto E quindi ci consentirà di implementare Le politiche fatte fino ad oggi Su questo versante Per quello che riguarda le politiche attive del lavoro Diciamo che Una nostra tradizione È quella degli interventi Per la creazione di impresa Col fondo europeo Cosa che non è scontata In molte regioni O in molti paesi europei Soprattutto non viene fatta Perché si pensa a creazione di impresa Col fondo di sviluppo regionale Noi invece da molti anni Abbiamo puntato su questo Sia perché stimoliamo La voglia di impresa Che hanno i marchigiani In particolare E su questo Ma anche perché Con il fondo europeo Creare un'impresa Magari sono piccole Micro imprese Ma significa Creare un'occupazione E un'unità Di lavoro occupata Attraverso l'autoimprenditorialità È più importante Di un'unità di lavoro occupata Magari come indipendente Perché a sua volta Crea ricchezza sul territorio Un'impresa unipersonale Crea più ricchezza Che non una persona Che viene assunta Che è fondamentale e importante E quindi questa sarà una delle linee di intervento principali La formazione professionale Ovviamente è alla base Poi di tutte le politiche che seguono E qui faccio un appello ai giovani Noi notiamo negli ultimi tempi Che spesso si fa fatica A trovare giovani Che partecipano ai corsi di formazione professionale Quindi siccome poi noi di risorse ne avremo Quindi vorremmo puntare a una formazione Anche di qualità Anche incrementando certi parametri Anche sul livello della docenza Cioè a migliorare anche l'erogazione della formazione E quindi l'appello è ai giovani Partecipate ai corsi di formazione Perché comunque ottenere una qualifica È fondamentale perché avvicina Ovviamente la persona al mondo del lavoro Invito tutti i giovani a partecipare I bandi che a breve usciranno Da parte della regione Marche Noi ci fermiamo qui Con i nostri appuntamenti di L'Europa per le Marche Ovviamente tenete d'occhio Sempre i riferimenti Del Fondo Sociale Europeo per le Marche Perché come è stato anticipato Ci sono tante opportunità Soprattutto per i più giovani Che sono in cerca di occupazione Ma anche magari di una formazione Per realizzare i propri sogni Grazie per averci seguito Arrivederci Soprattutto per i più giovani